Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di immergervi nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Nel video di oggi, ci addentreremo nella vita di Nicolò Barella e della sua dolce metà, Federica Schievenin. Un amore che ha visto la luce del matrimonio nel 2018 e che ora si appresta ad accogliere una nuova, piccola vita. Già benedetti dalla presenza di tre angeli, Rebecca, Lavini e Matilde, la coppia ha recentemente annunciato l'arrivo di un nuovo membro, un bambino. Questa felice notizia è stata condivisa da Federica, attraverso un post molto emotivo su Instagram. Con grande apertura, Federica ha rivelato non solo la loro immensa felicità, ma anche le sfide che hanno dovuto affrontare. Abbiamo attraversato un viaggio ricco di intense emozioni insieme, ha rivelato nel suo post. Abbiamo dovuto dire addio al più piccolo tra noi, un dolore già conosciuto, che ha riaperto una ferita ancora fresca. Tuttavia, la loro unione e la forza interiore hanno trionfato sulle difficoltà. Quest'anno ci ha messo alla prova, ha ammesso Federica, ma la presenza costante di Nicolò ha reso ogni passo più leggero. Queste parole emozionanti fanno riferimento alla perdita di un gemellino e al lutto vissuto in una precedente gravidanza.